110 multe in soli 10 mesi. È questo il bilancio delle attività degli ispettori di Sei Toscana in provincia di Arezzo, una figura che il gestore del servizio integrato dei rifiuti ha messo a disposizione dei comuni del territorio con il compito di informare e educare i cittadini attività economiche per una corretta gestione dei propri rifiuti e al contempo segnalare sanzionale eventuali comportamenti scorretti. Un'attività potenziata e implementata anche con l'installazione di dispositivi di videosorveglianza di ultima generazione nei luoghi ritenuti maggiormente sensibili all'abbandono di rifiuti. Ad oggi il servizio è già operativo in 30 comuni della Toscana meridionale, con più di 60 videocamere trafisse mobili, oltre 300 postazioni di raccolta controllate e con una costante e continua attività di monitoraggio da parte degli ispettori sul territorio. Nei primi dieci mesi dell'anno sono stati svolti complessivamente quasi 300 turni di ispezione sul territorio e analizzate migliaia di ore di videoregistrazioni, con oltre 3.000 illeciti che sono stati trasmessi agli organi di controllo per la successiva emissione di sanzioni ai trasgressori. In provincia di Arezzo sono quattro i comuni che hanno attivato il servizio di ispezione ambientale. Nel territorio sono operativi cinque dispositivi di videosorveglianza di ultima generazione trafissi e mobili che assieme all'attività promossa dagli ispettori ambientali hanno permesso di rilevare numeros illeciti relativi all'abbandono e al conferimento errato di rifiuti.